Il Gare Nazionale si contorna ai due campionati, il Pizzero Italiano. Bada, scuoter Nicolini, che non resti a sé che si era schierato, pur avendo avuto dei seri problemi nella mancia precedente, si era schierato, ma pure questa volta i problemi rimangono tanto su per a presto contatto con Bada. Bada, scuoter Nicolini, che non resti a sé che si era schierato, ma pure questa volta i problemi, non resti a sé che si era schierato, ma pure questa volta i problemi, sempre fiscicati per la prima e seconda posizione, Bada e Suter, ci dà l'impressione che Suter stia studiando molto bene tutte le mosse di Bada, fino a saltare il modo in cui poterlo numerare. ma penso che ne abbia di più. Non sto da verificare. Bada, scuoter Nicolini, D Jonas, spuoter Nicolini, che non è così svantaggiato. Questa volta però i due viciniani si dimostra a una parte interna, Quelle rie, se ne diamo l'incrocio delle rie, non è visto, e Suter sarà. Aspettando per un paio di ultimi la situazione, poi, ma tutto ci dà, la gente ci dà. E Suter, basta, basta da un'altra. Suter, basta, 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 basta. Suter, basta, 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 basta.